Musica Sa Giovannese e Pianese si sfidano in un recupero dei tanti preannunciati in questa tormentata stagione di Serie D. Iacobelli conferma Polo al centro dell'attacco dopo la vittoria di Ostia. Barellini è avanzato dalla difesa per l'indisponibilità di Papi. Fase di studio che dura tantissimo, poi pregevole uno contro uno di Mencagli su Chinnici. L'attaccante azzurro passa, sul tiro cross c'è la pronta respinta del portiere ospite Vrobleschi. Sul fronte offensivo opposto fa tutto poi da solo Gerardini, dal limite dell'area sinistro che si esaurisce sul fondo. Attenzione però alla palla persa da Campaner su Simeoni nei 16 metri Valdarnesi. Palla in mezzo che danza pochi centimetri dalla linea di porta. Alla fine Cipriani blocca e smorza il brivido. La seconda frazione si apre con il calcio da fermo di Cecuzzi, concluso ben oltre la traversa. Gli ammiatini reagiscono. Crosse a cercare la sponda di Remorini per la corrente Candiano, il quale piazza il destro addosso all'estremo locale. Ora di gioco e nuovo a solo di Mencagli, bene fino al momento del tiro in porta, troppo centrale per impensierire Vrobleschi che blocca. Avvicinandosi al finale del match, protesta del Mazzocco per un doppio atterramento in area ospite a seguito del quinto corner a favore. Ma per il direttore di gara è tutto regolare. Cecconi al minuto 42 offre l'ultima nota di un incontro che difficilmente del resto poteva schiodarsi dal risultato d'occhiali. Finisce 0-0, un punto a testa.